Il sassarese Omar Magliona, figlio d'arte e portacolori della scuderia Best Lap, ha conquistato a bordo della sua osella PA21S, motorizzata Honda e con due gare d'anticipo rispetto alla fine del campionato tricolore, il titolo italiano Velocità Montagna, categoria CN. Ho partito quest'anno per cercare la riconferma, grazie al supporto del team Fagioli siamo riusciti ad imporci con due gare d'anticipo, questo non fa che farmi piacere e soprattutto rendermi onore per via della mia provenienza da un'isola. Papà non posso non evidenziare essere stato il perno di tutta questa mia carriera sportiva, per quanto riguarda Alghero sicuramente una cosa che dispiace perché rappresenta la regina delle gare in montagna, non solo locali ma anche nazionali. Mancano due gare alla fine del campionato, il titolo è già in tasca, quali sono quindi i programmi? I programmi portare a compimento questa stagione con la partecipazione ai prossimi due appuntamenti veniti che sono Verona e Belluno, perché no cercare di tentare di chiudere al terzo posto nella graduatoria assoluta, sono staccato di solo 15 punti, io come mio solito anche avendo una vettura inferiore ci provo, poi quel che viene viene, per il momento l'obiettivo principale è stato conquistato. Grazie a tutti.